mi appare lui per il guido da bimbo che allora è inginocchiato verso quella che dovrebbe essere sua mamma che ha letto tra iata che sta riposando con gli occhi chiusi e lì che piange c'è ti prego ti prego come se l'entra ora per qualcosa qualcosa che vuole fare ma questa è una scena reale avvenuto davvero allora no non è quello diciamo rappresenta quello che lui come se lui si sentiva nel rapporto con la mamma quando lei era come se la sentisse indifferente quando lui le chiedeva qualcosa sembra quasi che lei non vuole per non c'è per sovrastare la sua insistenza lei un certo punto non rispondeva ok e quindi per lui era come se lei si assopisse e non volesse avere a che fare con lui va bene guido ti dà l'autorizzazione sì è come se facesse fatica a togliersi da questo lutto ma la davano se si gira verso di me mi dice sì sì e poi si rigira di lì ok allora oggi presta la massima attenzione o io non la considero un darci l'autorizzazione se vuole stare dietro a un'immagine initerico ovviamente un'immagine del suo passato di importanza nulla o quasi rispetto alla sua sessione di imminente svolgimento a me non va bene ok si è alzato c'è la mamma aspettami di che turno dopo ok scriviamo in eterico questa parola rispetto per noi per il nostro lavoro per le cose che chiediamo quando si fa una prenotazione di un ipnosi con noi rispetto leggere le mail seguire i passaggi senza se senza ma rispetto anche in eterico da parte di guido attenzione su di noi e il suo grande giorno l'ha aspettato un mese e mezzo 2 come reagisce a queste parole se si sente come un bambino che è a scuola con gli altri compagni a cui viene detto come si come ci si comporta quindi ascolta e accetta vibrazione 12 miliardi consapevolezza 118 ps 39 vite 3412 cervello 9 9.3 importantissimo si rimenta 27 taiera autondato è ingannevole ingannevole quando dicono le medium inventano a causa esoterica dei problemi di connessione appena finito con i punti guido io iniziato a vederlo bene e sentirlo bene uguale con te perché 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 continui problemi di connessione c'era qualcuno che spiava era connesso qualcun altro però vicino a te c'è un po' quando anno fa più o meno più di un anno fa ti seguivano ti intercettavano quello di catania se stesso stesso gruppo questa squadra del poveretto di catania se mi vicino a te come se adesso non ho messo c'è in eterico vedo come se avessimo essere una postazione dovrà questa postazione andiamo andiamo lì mettere con tutte e due ok se finora io ho creato ad eterno mix adesso in questa postazione metto un ad eterno un miliardo più potente del del solito che metto molto atto con qualunque conseguenza l'incelerisce non fra il cazzo via il posto in cui vivo è composto da un unico grande ad eterno cioè i muri cemento i mattoni sono ad eterno ma come se fosse passato una grossa fornata diventa quel posto via più che fornata proprio come se fosse stata un vortice di aria che gli ha spazzato via tutto e ha spazzato via anche loro erano in due e come se lì fatto sì sì è fatto un dimmi di me sì è come se in alcuni momenti c'è c'è un senso per cui si sono disconnessi quando quando guido finito di esporre i punti perché tu interloquisci molto mentre le persone espone tutti e loro riescono in quel momento di cercano di captare le tua la tua vibrazione e la tua energia attraverso la voce e che se ne fanno potrebbero captarlo durante la sessione no li adesso stanno facendo questa cosa perché come se lì avendo la tua energia la tua vibrazione in quel momento in quel frangente poi riescono il loro tentativo a provare a interferirla si interferire la rotta di bolla la rotta di cazzo non si possono proprio bloccare questi qua ogni volta all'infinito va bene interferenze di guido e teri che vediamone sì mi fa vedere questa scena qua strana nel senso che l'interferenza mi fa già vedere che qualche effetto ha su guido e quindi in eterico c'è questa figura che è un sì un insettoide con tipo con un saio da si chiama da monaco e sta dietro guido guido e giù a terra in gina accovacciato per terra ok con la schiena nuda e questo insettoite vestito da monaco che gli frusta la schiena poi poi c'è una mantide collabora con due uomini del tempo un uomo del tempo diciamo è addetto alle sue relazioni sociali e uno è addetto alla sua situazione economica lavorativa che quindi insieme alla mantide mantengono un limite dove fanno sì che guido non vada oltre poi c'è un leonide che sopra collabora con odino e tra diciamo tra leonide giù e odino sopra ci sono due corvi potrei dire che è come se seguissero leone ed aiutassero leonide sempre come se fossero le guardie del corpo diciamo delle onide edl 4 due dentro i due fuori va bene entità mentali c'è questa di livello se che la chiamerei completa introspezione nel senso che lo scopo di questa entità mentale quella di non far di far sì che guido non non riesca a esprimere all'esterno tutto quello che ha dentro è come se lui è come se cercasse di spiegare quello che pensa e sente ma non riesce a volte quasi è come se credesse che la persona fuori abbia letto dentro no quindi addirittura diventa si sente fragile e vulnerabile poi ce n'è una di livello 3 sì che collabora direi con il monaco perché è come se lo rendesse goffo c'è questa è come se facesse in modo che lui non riesca ad esprimere a fare una frase completa il discorso completo nel senso come se glielo facesse fare a pezzi a frammenti quindi c'è in eterico vedo proprio che quando lui deve esprimere qualcosa lo dice dice un pezzo poi un pezzo lo dice più in qua poi in là proprio in eterico vedo i pezzi del discorso separati e la prima immagine che mi ha fatto vedere questa entità mentale è proprio come se guido fosse curvo poi ce n'è un'altra di livello 2 6 3 e 2 che lo blocca lo mette sul chi va là ecco lo mette sul chi va là quando deve affrontare il mondo mondo nel senso le persone all'esterno da dire quindi la scena che mi fa vedere è proprio come se riesce da casa e guardi in voce mettere che come se guardasse sempre adesso a sinistra per vedere chi arriva e chi si muove impianti allora una specie di cerchietto potrei dire ok che a quattro antenne queste antenne sono collegate con l'entità interferenze all'esterno e ogni volta che diciamo gli vengono mandati gli impulsi per i suoi movimenti e le sue azioni attraverso queste antenne poi cos'è quello è uno mentale sì eterico c'è tipo una come se avesse una struttura intorno al bacino che poi va a lungo le gambe e lo rendono robotico quindi è come se decidessero loro quando fagli muovere le gambe molto direzionato ecco la vita poi allora c'è c'è una placca dietro allo sterno quindi nello sterno ma nella parte interna ok faccia interna dello sterno con una specie di sensore allora in eterico vedo questo sensore che è tipo che lampeggia di una luce di una luce un po sul blu ok che praticamente come se scannerizzasse le potrei dire come se scannerizzasse le le scene intorno e facesse andare guido verso verso diciamo le situazioni più consone alle sue interferenze basta nome del progetto di guido chi dell'omino allineamento annullamento lo allineano per annullarlo nome della piessa trafalgar trapie carretto ok andiamo all'episodio con cui è più o meno venuto al mondo aveva già due anni viene messo indebitamente da un genitore in braccio alla sorellina che avrà avuto 4 5 anni che non è in grado di tenere un bambino di due anni in braccio lo lascia cadere cade batte la testa viene urgentemente soccorso danno al nervo ottico problemi agli occhi a cui lui si ribella cioè alle cui cure si ribella e fino al giorno in cui è in età adulta capisce che i latticini non fanno parte della sua dieta di toglie dalla sua dieta abbraccia la dieta del gruppo sanguigno e l'occhio si raddrezzo causa su te ricordi tu te ricordi tutto questo gli hanno fatto l'abduction ma è come se non gli avessero non avessero avuto la necessità di fargli un abduction nel senso che hanno iniziato a inserire lui si è agitato in braccio alla sorellina perché hanno iniziato a provare a inserirgli un impianto sul nervo ottico ok è come se si fosse agitato perché si è accorto ed è caduto quindi il problema nervo ottico non è dato dalla caduta ma dal fatto che hanno hanno gli avevano messo un impianto a nervo ottico questo impianto ha fatto venire l'edema è stato operato ma quando hanno tirato hanno sistemato hanno tirato via l'edema è come se dove c'era l'impianto è rimasto potrei dire una parte vuota no e quindi questo ha fatto sì che il suo occhio si stortasse ok potrei dire che il fatto che lui ha tolto i latticini sia un po una coincidenza è come se lo vedevo prima mentre lo diceva come se sul cervello avesse agganciato quell'episodio alla ma associato con l'episodio alla mamma alla mancanza della mamma ok che è associata a nutrimento con latte e di conseguenza quando lui ha tolto i latticini ha tolto il problema ha tolto la binario con cui il cervello attivava questa cosa è soltare l'occhio guido mi fai vedere qual è l'occhio è il sinistro giusto chiedo no chiedo no e il destro e il destro ok perché lo che destro chi ve lo rapi è sempre che lei che ha voluto strada infatti lo sto chiedendo dice perché da destra è la prospettiva era migliore e quindi dovevo mettere un blocco questa a questa facciti facilitazione di vedere una prospettiva migliore per riuscire a sbloccarla in certo gli indomini interferenze ecco superando le interferenze a destra è come se lei mi fa vedere che a destra è come se lei potesse vedere cioè se a sinistra vedi a un paragone etica a sinistra vedi 90 gradi a destra ne vedi 360 dice per lei per quanto riguarda essere nel corpo di guido ok e quindi doveva limitare questa visione per riuscire a sbloccare la visione imparando a vedere oltre mi viene dice e quindi quindi ha trovato ha dato questo spunto video diciamo questa scusa questo aggancio con i latticini che lui ha scoperto e togliendo i latticini è tornato a vedere dritto e quindi la visione era di nuovo centrale ea 360 gradi questo avrebbe dovuto il tentativo della ps era quello di arrivare così e poter vedere oltre è un primo passo perché guido non non riesce non ha accolto l'occasione per imparare a vedere oltre ha fatto dei tentativi direi con i vari percorsi mi con i percorsi spirituali che ha seguito e ma come se ancora non ha scoperto la sua via ecco mi dice sono tutti i tentativi ma non ha ancora trovato la strada va bene andiamo a vedere lui non è cinni vacca to ha fatto sospeso dal lavoro se tamponi però ci sono conseguenze adesso mentre niente parlavi mi è arrivata questa immagine come se nell'ambiente in cui lavora più o meno in tutti gli ambienti simili a quello dove lavora lui ok è come se impregnassero l'ambiente di ossido di grafene ma perché il futuro non deve essere nel futuro non devono essere presenti sanitari perché avverranno nuovi sanitari differenti formati sì c'è troppo c'è ancora troppo umanità tra i sanitari e questo pa umanità maniera devono interromperlo essere più robotica la cosa più meccanica e robotica quasi come fabbrica mi fanno vedere il loro ideale di ospedale ok questi questi loro ideale diciamo trasformare gli umani che lavorano dentro il robot quindi proprio che spostano le persone e le curano tra virgolette proprio come se fossero degli oggetti dei numeri e lui è soggetto a grafene come se gli fosse stato fatto in eterico come se l'avessero per tutti quelli che lavorano nel posto mi lavorava lui quando quello strano vedo sì quell'ospedale libero specifico ce ne sono anche altri ma lì dove lavorava lui è come se fosse stato avessero preso tutti gli avessero fatti gli avessero fatto un bagno nell'ossido di grafene in eterico in eterico o anche nel fisico sì allora questo in eterico vedo questa immagine nel fisico è come se avessero mandato nell'aria sai quasi come se avesse se quei film dove fanno vedere che mandano nell'aria il gas nervino attraverso le bocchette ecco qui invece come se avessero mandato aria aria con dentro del grafene che si deposita dentro e fuori nel corpo ok va bene a firmare e accettare un cini vac la l'autorizzazione viene data ma in questo caso non viene data nessuno perché la ps permette questo perché questa cosa è possibile si dice tanto che questo grafene anche nei cibi nel latte nell'acqua nei medicinali da banco noi non abbiamo dato l'autorizzazione perché questo avviene stesso vale anche per quella che mettono nei cieli perché costatine tutte le ps sul banco degli imputati a rispondere a questa semplice domanda a livello collettivo abbiamo permesso questa cosa in questo momento per vedere se siamo in grado di superarla a livello collettivo come c'è la grande ps tra virgolette ok vedendo se riesce a superarla il grafene di fatto non esiste il grafene qualcosa di fisico tutto quello che fisico non esiste sì 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 infatti nel senso anche quello intendi ma se stavo guardando se solo informazione o se era molecola c'è anche la molecola nel senso ne esiste ma nella realtà di molti se lo volevano vedere c'è ok completamente invece la pande minchia ok io la vedo più come invece informazione vibrazionale ecco paura la differenza è quella esatto ok grafene esiste nella madre esatto nella realtà del cosa esiste davvero cosa non esiste davvero il grafene non esiste quindi forse per questo che le ps ne accettano la presenza si riconosce acquisisce una consapevolezza tale da dire io non penso che ci voglio che non ci sia non c'è esatto sì ma quanto ci riescono allora quello che mi fa vedere è che come stanno andando le cose ci sarà una buona parte di umanità a sufficienza una parte di umanità sufficiente per far sì che riescano a vincere tra virgolette nel senso a superare la prova che quindi poi non ci sarà più necessità di questa prova e andrà tutto scemare a cadere vedo erano le teri con la scena è come se ci fosse una grossa come la lava ok ma dice che lava è come se fosse slime ok che arriva sotto c'è questa grande ps che energia no quindi come se fosse invece una una palla che però si prende forma diversa ok questa lava che inizia sovrastarla ok e poi da un lato della lava questa grande ps riesce a spingere via questa lava questa gelatina sto slime e lo ribalta e riesce a uscire allora quando riesce a uscire tutto svanisce ecco questo è un po la rappresentazione della prova che si che sta facendo a dirà di quello che si legge cosa serve graffene il fine ultimo del graffene colà un collegamento diretto con gli apparecchi sì allora vedo come proprio un collegamento di energia per c'è corrente ok tipo diretto corpo poi ci sono queste antenne che creano il campo con dei con peso satelliti non ti so dire delle antenne in alto delle antenne a terra e poi delle antenne in alto alcune leggono alcune invece rimandano dei comandi che vengono poi ridiffusi da queste antenne come se il campo elettromagnetico venisse creato con delle informazioni che vengono recepiti dalle molecole di graffene qual è il fine ultimo il controllo si robotizzare le persone si esatto può ucciderle ospedale allora ucciderne una gran parte perché è come se nelle loro previsioni hanno visto che controllarli tutti controllarci tutti così tanti probabilmente non è possibile o non è efficace come loro vorrebbero quindi una parte deve morire e il resta essere controllata e anche questo un esperimento come posso dirti non è il fine ultimo è come se fosse un passaggio una parte di ma questo lo stai vedendo adesso lo sto vedendo adesso no no come vedendo adesso vedo che è come se fosse una parte di esperimento nel fine ultimo devono arrivare a un obiettivo che è ok riprodurci ma come se volessero riprodurci un po mischiati a loro ma per fare tipo una doll house ok come se fosse un enorme casa delle bambole che va da sola quindi non sono loro che devono muovere le pedine ma che a un certo punto va da sola con un certo meccanismo quasi come se caricassero un carillon ma per fare questo devono sperimentare perché finora non sono ancora riusciti a trovare il modo di far andare da solo senza l'iniziativa di noi no quindi delle delle bambole e il fatto di trovare questo meccanismo con il graffene le antenne per vedere se riescono a comandarci è un esperimento per capire se questo tipo di meccanismo può essere utile poi per fare appunto questo mondo che tutto gira da solo e loro possono collegare l'energia diretta va bene guido è pulito in termini di grafene allora adesso rispetto a mesi fa ce l'aveva anche un po in circolo nel senso più che in circolo nel sangue come se si fosse attaccato mi viene da dire all'interno del corpo ok adesso all'interno del corpo io lo vedo molto pulito ha ancora un po di residuo fuori ma rispetto a prima è come se pian piano fosse si fosse staccato non è diverso da quello che viene iniettato perché non viene iniettato solo l'ossido del grafene come se ci fosse l'avevo già visto e lo rivedo è come se ci fossero varie particelle che poi si uniscono come se fossero dei micro robot ok a cui a cui poi si collegano le tutte le molecole di grafene e quindi non può uscire ci sono questi robot che accumulano il grafene per poi prendere le informazioni e muoversi proprio poi nel corpo mentre su guido ci sono solo molecole singole che si sono staccate si stanno staccando e penso che quello che posso dire che rispetto al cibo qualche farmaco altri rivedo un po più comunque rispetto al cibo e qualche farmaco più che altro quelli orali il grafene che mettono nel cibo fa la stessa cosa di quello che che si attacca la tele quindi dopo un po viene sposa colpo si gli integratori e latina integratori che sta assumendo guido sono efficaci dipende un po dall'informazione ok che lui pensa di di recepire quello che vedevo prima non è come se secondo me quello che vedo non è che secondo me quello che io vedo è che il virus che loro dicono che gira che non è niente di di vivo ma è una sequenza informazionale di vibrazione ok che a seconda di quanta paura tu hai ti può dare più effetti o meno di fine da dire ok quindi di conseguenza e gli integratori possono agire come antigredenza quindi se tu ti senti più forte a livello immunologico puoi sentire meno si lo sai esatto se non si sente mi minori in passato guido ha fatto una serie di attività energetiche meditazione danze sacre adesso senza entrare nei dettagli pratiche energetiche in generale spirali di luce e si chiede se si è danneggiato oppure no vediamo se sono alcune delle entità che abbiamo visto interferenze sono intervenute in queste occasioni no vediamo insomma allora quello che ho visto prima mentre descriveva i punti e allora le danze sacre è come se chi guidava la danza ok seguisse una certa un certo argomento una certa che ne so oggi facciamo la danza della natura del bosco e in tutta la sequenza dei movimenti di musiche andava a creare un flusso energetico che portava la loro energia a una certa entità ogni volta più o meno un tipo diverso come se prima mentre raccontava io vedessi un gruppo di entità che a seconda del tipo di danza prendevano l'energia però in quel momento chi guidava era come se canalizzasse le informazioni di queste entità quindi era sempre interferito a da loro da chi ballava prendevano solo l'energia ok le spirali di luce invece ho visto che era proprio un collegamento diretto che aveva guido posso dire aveva non vedo gli è rimasto un segno gli è rimasto un segno l'entità quelle frate è diciamo la conseguenza che gli è rimasta ma l'interferenza che guidava questa spirale di luci ho visto proprio mentre mentre parlava è come se avessi visto messo sotto una piramide a base circolare è di luce proprio lui lì dentro e questi che erano sempre collegati a lui a livello energetico e lui era messo giù praticamente dentro dentro questa piramide era lui e frate adesso non c'è più l'entità che teneva la piramide non c'è più la piramide ma ci sono lui e frate ecco ok mercati finanziari gioca sia da solo che chiedendo il supporto di esperti ha sempre perso tanto e completamente ha sempre perso e anche tanto causa esoterica se c'è allora quasi diciamo in generale fino ad oggi ha agito un po nella vita come se fosse sempre quel bambino che vuole sempre l'attenzione della mamma mi viene da dire che quel bambino che abbiamo visto all'inizio ma in particolar modo in questo caso in questo caso ha agito come se avesse avuto i soldi del monopoli finti c'è quasi non se n'è accorto ecco mi viene da dire no quindi come se fosse carta è sempre questo gioco che la ps non ha ancora finito di fargli fare fino ad oggi che fino a arrivare a questa consapevolezza con cui lei spera di riuscire a fare il salto evolutivo ok questo gioco di mantenerlo economicamente non autosufficiente ok diciamo un po a livello animico mi viene da dire per soddisfare le esigenze della mamma di essere utile quindi essere sempre la mamma che deve accudire figlio ok e in questa con questo atteggiamento attitudine della mamma lui ha sempre affrontato la vita come se stesse giocando come un bambino come se fosse sicuro che tanto sempre le spalle scoperte ecco quindi quasi come se mi viene da dire a livello economico non avesse avuto mai la paura di rimanere senza tanto in qualche modo mangio lo stesso ecco perché non riesce a vendere la casa è già in perdita non riesce a venderla se la vendesse oggi sarebbe in perdita ma recupererebbe qualcosa ricordiamo che questa casa però è stata comprata in relazione a una relazione poi finita in nulla quindi potrebbe esserci una connessione si terreno forse forse la casa non l'aveva ancora fatta però sì 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 terreno edificabile scusi vedevo già prima allora quello che vede in eterico è che quando lui ha comprato quel terreno ha messo l'ha comprato con l'energia della coppia con la sua ex ragazza ok aperto un canale energetico proprio in quel momento con questa entità del secondo universo c'è proprio una tipica quello che vede la tipica interferenza con il mantello nero che quasi non si vede sotto la rappresentazione del secondo universo mi viene da dire che è il guardiano di quel terreno lì quindi non è come se a livello energetico in eterico non ci lui diceva prima non vengono non mi chiedono neanche di andare a vederlo come se non anche solo se c'è un pensiero di entrare a vedere il terreno a questa entità del secondo universo la respinge ma una delle sue sì sì aiuta l'uomo del tempo sei quello uno dei due non quello dell'economia l'altro con dei rapporti sociali ok diciamo che poca chiamiamo i suoi genitori nel cinema non ha un angolo allora sono in prima fila ma uno all'estrema sinistra un angolo i tre hanno avuto delle vite precedenti insieme visto che lui per motivi di lavoro e di esclusione di lavoro da parte dello stato fascista non può più lavorare tutto a casa dei suoi vabbè quello che mi viene da dire adesso in questa vita che lui e fa da ponte tra i due sì nel senso che sono ancora assieme e in equilibrio perché c'è lui che fa da ponte e lo scopo di sua mamma quindi lui sta al gioco di sua mamma che deve ancora accudire il figlio perché è la sua diciamo scopo di vita e stando in questo equilibrio suo papà riesce a star vicino a sua mamma apriamo portale aureo velocemente chiamiamo tutti gli antenati in generale di guido non ha chiesto nessuno uno specifico di mili solo quanti ne arrivano se facciamo entrare e lo chiudiamo ok chiuso cosa vuole fare guido allora vuole andare al class e buttare via tutto ed è una cosa particolare che non vedo spesso è andato deciso al cluster e vuole buttare via tutto il passaggio proprio step da staccarsi soprattutto da questo meccanismo familiare ok al cluster quasi fatto dolore fisico c'è malessere ok però l'ha fatto che era un grosso gancio però è andato al cluster come li vedi quanti contratti sono 3000 e quasi 500 come le sue vite di più di meno nessuno tutto non si vedo un po di più vedo 4.000 e 3 che o meno 4.000 e 3 se come li vedi sono come se sono dei fili di maglia fatti su con la maglia non a forma di maglia no ma solo intrecciati un po è come se lui vivendo tutte le vite andasse avanti a fare il maglione ecco quindi è un po metà e ogni filo è una vita è un coce ogni filo di color diverso è un contratto quindi c'è questa forma non definita che che man mano che vive prende forma con i contratti cosa vuole farne aperto il portale definitivo prende tutto questo straccio tra virgolette e i cerri tutto tutto dentro va bene mettiamo un qua una d'eterno l'ho messo vediamo lavato come lo vedi si ha preso le sembianze presenti ricordi quel cartone dove c'erano tutti questi strani personaggi che cosa c'erano quella gara in mezzo al grand canyon con quelle macchinine e c'era con il cane che frega che fregava se cerca di fregare sempre atli ecco lo che ridevano si ecco se in persona in piccato così buttiamolo ci fa tanto piacere che abbia la faccia da cane se vuole buttarlo guida ovviamente perché io non faccio nulla per nessuno e se vuole lasciare anche qua un all'eterno ma libero di farlo bene ci sono ancora il monaco insettoide amanti dei due uomini del tempo il leone odino zeus va i due corvi e 4 edl no entità mentali 32 36 tutti gli impianti che abbiamo visto abduction eventuali progetto al nulla allineamento annullamento ci sono tracce di grafene in guido come se fosse si fosse accelerato il processo di eliminazione delle ultime collicole diciamo che aveva attaccate come posso vedere adesso secondo me nel giro di una settimana non ne ha più neanche uno se continuano a stare controllo stato controla anche te stessa me quelli che dicono quelli che conosci attiviamo lo stesso processo ma il grafene è sentito mi senti mi senti il grafene che so perché non mi sentivo in questo momento è presente in quegli integratori che hanno diffuso il nack e così via per e ripulirsi allora non vedo dentro il grafene ma non vedo neanche che sono e come se ne tra neutralizzassero nel senso portano a uno stato neutro vibrazionale se uno è più forte come se gli abbassassero la vibrazione e diventa come chi era la meno forte e gliela alzano non so se volessero tutti uguali non so come spiegartelo non ha dentro non hanno dentro grafene o cose così ma è come se portassero soprattutto il nack più che altro la molecola nack mi viene da dirti se le altre sono più gestibili eliminabili nel senso sono abbastanza fisiologiche le vedo quindi se ne bisogno le trattiene altrimenti le elimini ma anche come se facesse vibrare tutti uguali in che senso nel senso che come se se uniformasse tutte le cellule alla stessa vibrazione ma non è non va bene come se togliere qui non va bene il nack no ecco ma se toglia solo individualità no non che lei ha assunto chi è se no allora io l'assunto insieme ha capitato guido si insieme ad altri un altro insieme di cose va bene nuova frequenza di guido 189 miliardi nuova consapevolezza 153 la ps sta quanto vite abbiamo se sono scesa 2 mila 816 e cervello 9.7 bene come lo vedi visto subito dopo che abbiamo dopo che lui ha mandato lavata nel portale definitivo che ho visto proprio subito tutto intorno bianco ok e lui su dritto vello dritto non più ricurvo con prima bianco anche lui bianco cioè come se fosse vestito tutto di bianco molto luminoso su vello dritto e forte come se è così riuscissi a vedere ecco ad avere eccolo qua una vista a 360 gradi ecco finalmente la ps l'ha portato a vedere è riuscita a portarlo a vedere a 360 gradi ecco quindi lo vedo molto forte pronto in eterico ovviamente deve rimanere in questa situazione se così saldo e messaggio finale allora la cosa fondamentale è che lui da oggi in poi quando a qualsiasi relazione con qualsiasi persona per cercare di rimanere neutro neutro nella sua personalità non farsi abbassare e trascinare dalla dall'energia dell'altro altrimenti così si come se riaprisse i canali per essere interferito per essere isolato di nuovo e chiuso e abbassato ecco e non essere più in grado di comunicare invece deve tenere presenti di essere neutro quindi se stesso sempre relazione con tutti e quale altro messaggio vuole lasciarsi può agire nel concreto mi fa vedere che corre mi dice tipo non so se tagliare la legna o allora lo vedo un po che taglia la legna però poi è come se togliesse tipo la corteccia dai pezzi di legno no quindi forse lavorare il legno per dire come decorazioni ecco potrebbe essere un'attività meditativa no dinamica però contatto proprio con legno però lui deve prenderlo cioè non può comprare dei pezzi e scolpirli deve procurarsi lui il legno direttamente dalla natura e poi prendere tanta energia del sole quindi assorbire proprio il sole come vedi genitori allora da una parte sereni per lui perché a livello energetico sentono che è la sua strada che è quello che fa bene a lui da una parte un po sconcertati perché adesso dovranno avere a che fare l'uno con l'altro quindi davanti alle loro vere dalla loro vera realtà a loro vero essere ok ultimissima domanda quindi come lo vedi adesso è come se avesse trovato un cavallo che è di tutti i colori e inizia a volare con il cavallo è possibile lena mettere una informazione ad eternum dentro una qualche sostanza in tutto il mondo per esempio il grafene dove c'è grafene c'è ad eternum che si scorre nelle vene forse no perché ci vuole la consenso di tutti però allo stesso tempo nessuno ha dato il consenso per il grafene per cui siamo lì l'unica cosa che vedo è che allora entro ovunque si è andato ovunque dove c'è grafene anche nelle vene delle persone ovunque e dopo un istante può essere appunto a seconda della vibrazione della persona poi può essere rifiutato ed espulso esattato e accolto e ringraziato bene prendiamoci questo grazie che non ci dice quasi mai nessuno disconnetti da tutto e tutti